Ma non più lo prefero di riscrivere un'attesa. Perchè non mi ha seno e mi ha decidere insieme. È in grado di decidere tutto quello che il tuo cuore desidera. Ora ripondo il potere molto male. Potrei pulire fino al tuo viaggio quando dovrò. Sì, quando va a casa. Sì, quando va a casa. Non finisce qui. A me invece sembra di sì. So bene che non siamo sempre andate per questo. Ma riadissiamo grandi cose, Dallena. Per questo credo che dovremmo correre tutta. Odile a casa. Possiamo sconfiggere Gothel e mostrere salvare Anna. Grazie. Grazie.